...di plastica, è caduto almeno da 20 metri e non si è rotto. Non lo trovate un po' strano? Non c'è che una spiegazione. Claudia deve aver posato la bobina per terra, poi è salita in cima alla scogliera ed è caduta giù facendo bene attenzione a non cascarci sopra. È talmente ridicolo che sarebbe proprio assurdo supporlo. E allora lei a che cosa pensa? Penso a un omicidio.